Ciao a tutti, buongiorno, buon caffè a tutti e buona colazione. Come state ragazze e ragazzi? Buongiorno a tutti. Mi hanno condiviso un discorso che ha fatto alla plenaria di Strasburgo Nicola Procaccini, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, che in un discorso di, pensate, poco più di un minuto e mezzo, in una parte saliente, è riuscito a distruggere totalmente il PD, la sinistra, i pidini e compagnia cantanti. E quindi volevo farvi sentire questa mattina per partire in modo gioioso, in modo bello, perché finalmente sta venendo fuori la verità, ovvero che per anni siamo stati governati da dei falsi buonisti che in verità hanno fatto tutt'altro tranne che agevolare la vita, la nostra vita quotidiana e far star bene le persone, ma in verità hanno fatto un casino incredibile, manine di qua, manine di là. E' stato buongiorno, ciao Luisa, ciao Roberto, ciao Lorenza, attento che si è collegato un po' di gente, prima cosa vi chiederei di condividere, è fondamentale per dare una mano, svegliare l'algoritmo perché la mattina dorme, mettere un commento, assolutamente un saluto e chi non l'ha fatto seguire la pagina, è fondamentale, perché più siamo, pensate che sono partito un anno e mezzo fa per gioco e adesso mi trovo veramente tutte le mattine a fare queste cose con voi pomeriggio, mattina, sera, cercare sempre un'informazione reale, un'informazione vera, cose che purtroppo non troviamo sui media nazionali, perché queste cose non le fanno vedere in tv, perché sapete, da un fastidio magari al PD, ai PD potrebbe dar fastidio che un deputato a Strasburgo di Fratelli d'Italia in poche parole demolisca anni di partito democratico. Ciao Davide, buongiorno, grande Davide, buongiorno, ciao Lorella, ciao Stefania, ciao Lisa, state facendo una condivisione, ciao Enzo, buongiorno Enzo, ciao cara, ciao Giovanna, Giovanni, abbiamo Giovanni Torre, Sandra, abbiamo Giovanni e Giovanna, abbiamo Eli, buongiorno anche a te, quando siete pronti vi faccio vedere, 30 secondi vi faccio vedere questo video qua che è incredibile, perché ha fatto un discorso che ha demolito totalmente il PD. Penso che sia uno dei discorsi più belli fatti negli ultimi tre anni da un politico italiano. In questo caso parliamo di un eurodeputato, ricordiamo di nuovo il suo nome, è Nicola Procacini di Fratelli del gruppo di Fratelli d'Italia. Giriamo lo schermo e facciamo vedere quello che ha detto, guardate, ascoltate le sue parole. Ieri è stato detto che la corruzione non è né di destra né di sinistra, personalmente io sono d'accordo con questo assunto, mi domando se anche i colleghi di sinistra siano d'accordo. Io temo di no, perché li abbiamo sentiti per anni raccontare la favola della loro superiorità morale. Anche ieri sera questa narrazione falsa e ipocrita è risuonata negli interventi di alcuni capigruppo. Vedete, l'aspetto più rivoltante di questo scandalo sta nelle parole di chi ha spacciato un mese fa qui dentro il regime di Doha per un campione dei diritti umani e del progressismo. Non solo per le ragioni che oggi comprendiamo un po' meglio, ma anche perché a sinistra ci si considera abilitati a stabilire chi è dalla parte giusta della storia e chi invece no. È stato detto persino che noi occidentali avremmo molto da imparare dal Qatar in fatto di libertà e di diritti. Questa ideologia perversa e pervasiva è la migliore alleata della corruzione e della repressione. C'è una domanda che dovremmo porci, non solo in quest'Aula. Perché un regime islamico decide di pagare alcuni deputati europei e di investire così tanti soldi sullo sport più popolare del mondo? Non sta cercando un ritorno economico, si sta comprando la nostra cultura, il nostro modo di vivere. Tutti lo sanno, ma pochi si oppongono. Attenzione, passaggi molto importanti. In sostanza questo deputato dice che quello che è stato fatto a agevolare il Qatar, varie mazzette che sono venute fuori, prese da deputati di sinistra, assolutamente di sinistra. Perché hanno preso queste mazzette? Per quale motivo hanno preso così tanti soldi dalle Qatar, da questi personaggi che evidentemente hanno qualche interesse particolare? Vi ascoltiamo questo passaggio, è molto importante. Ascoltate questo passaggio, è molto molto importante. L'ideologia perversa e pervasiva è la migliore alleata della corruzione e della repressione. C'è una domanda che dovremmo porci, non solo in quest'Aula. Perché un regime islamico decide di pagare alcuni deputati europei e di investire così tanti soldi sullo sport più popolare del mondo? Non sta cercando un ritorno economico, si sta comprando la nostra cultura, il nostro modo di vivere. Tutti lo sanno, ma pochi si oppongono. Signori vorrei un applauso, intanto una condivisione, poi vorrei un applauso assolutamente per queste parole perché ha detto la pura verità. Si stanno comprando la nostra cultura, questa invasione programmata da parte del Partito Democratico con evidentemente soldi che arrivano perché i fatti stanno dimostrando questo, che dei deputati del Partito Democratico di sinistra stanno prendendo dei gran soldoni, evidentemente li stanno prendendo per far entrare gente, tutto programmato, perché loro sono palesemente d'accordo con questi governi. Per fare una vera e propria invasione, per fare una sostituzione della popolazione, purtroppo questa è la verità. Quindi condividete, commentate, vorrei un vostro parere, vi do il buongiorno a tutti, adesso andiamo a vedere le notizie perché Putin sembra che si sta attaccando pesantemente Kiev, voglio andare a capire su cosa stia succedendo realmente in Ucraina e Russia. Ciao a tutti, buona giornata, a più tardi.